Musica Difficile la manovra del governo, i provvedimenti annunciati fanno discutere lavoratori stranieri truffanti, una piaga per le persone che avevano diritto al permesso di soggiorno. Rifiuti, la Lega ribadisce il no, intanto aumenta il disagio a Napoli e provincia. Camorra, maxi sequestro di beni, un boss possedeva auto di lusso e ville. Premio ai giornalisti anti Camorra, Napoli premiati colleghi che si sono distinti con il loro reportaggio. Ben ritrovati gentili telespettatori con questa edizione del nostro telegiornale. Varato il piano del Consiglio dei Ministri seguendo la tabella Tremonti, si tratta della manovra. Vediamo. Blocco degli stipendi per gli statali per un anno in più. Donne in pensione a 61 anni, già dal 2012, per raggiungere poi quota 65. Nel settore sanitario l'introduzione del ticket da 10 euro per le prestazioni specialistiche e da 25 euro sul pronto soccorso, questo a partire dal prossimo anno. Poi l'aumento dell'IVA di un punto percentuale. Sono queste solo alcune delle misure contenute nella bozza della manovra economica che poi andrà a intrecciarsi con la riforma del fisco che riguarda l'IRPEF, l'IVA, l'IRAP e le tasse sulle rendite finanziarie. Tra le novità che dovrebbero arrivare è anche la privatizzazione della Croce Rossa e il rifinanziamento delle missioni internazionali per tutto il 2011. Nessuna traccia invece dell'atteso abbassamento della pressione fiscale. Cosa dice di questa manovra economica? Bellissima. Bellissima. È ora di finirla veramente con questo sfruttamento. Ci hanno tolto anche il midollo dalle ossa. Le tasse non vengono abbassate? No, vanno abbassate quel tanto che interessa a qualcuno che sta in alto. Per noi, poveretti, è sempre quella, la solita minestra. Emo male? Io penso che comunque qualcosa bisogna fare, perché ovviamente ci troviamo in una situazione in cui vedi la Grecia, vedi altre situazioni, che comunque è un po' di equilibrio su queste cose. Poi sento che il governo decide di autolimitarci un po' in queste spese, nelle spese ministeriali. Penso che sia doveroso nei confronti dei cittadini. Ma probabilmente, visto che abbiamo le pezze sul sedere, forse il governo questa volta è costretto a fare queste cose. Io non condivido questa politica di innalzamento e di risparmio, mentre i risparmi si possono fare in maniera diversa. Per esempio, tutti quanti, destra e sinistra, che secondo me sono dei codici, li definisco decomposti, potrebbero incominciare, per esempio, ad eliminare le province. 2.000 miliardi l'anno che noi spendiamo per niente. Bene, quelle che vi abbiamo mostrato erano primissime reazioni quando la discussione era ancora in corso e del resto la manovra non è ancora conosciuta nei dettagli, dato che il documento non è stato interamente diffuso, ma si riportano solo le cose dette in conferenza stampa da Tremonti e Berlusconi. Proseguiamo con il nostro telegiornale. È stata presentata l'indagine Truffa Sì, svolta da Naga, in collaborazione con l'Arci, Comitato Inquilini, Molise, Calvairati, Ponti, Immigrati, Autoorganizzati, che ha analizzato gli effetti dell'ultima sanatoria, quella del 2009, volta a regolarizzare colfe e badanti. Molti cittadini stranieri risultano truffati dai loro datori di lavoro o da associazioni che operano in questo senso. La maggioranza dei truffatori sono italiani. Vediamo il servizio. Truffasi quando la legge crea illegalità. L'indagine svolta da Naga, associazione di assistenza ai cittadini stranieri, ha portato alla luce gli effetti dell'ultima sanatoria, quella del 2009, volta a regolarizzare colfe e badanti. Abbiamo scoperto in sostanza che esistono delle catene delittuose, quindi delle organizzazioni criminali, che sfruttano i clandestini, quindi i cittadini stranieri, irregolari sul territorio, promettendo un permesso di soggiorno che non potranno mai avere e che a fronte di questo pagano delle somme. Delle somme che possiamo indicare in una via media di circa 3.000 euro, ma si varia da 1.000 a 7.000-8.000 euro per ogni sanatoria. Sanatori truffa, quindi. Truffa perché già fin dall'inizio, dal nostro punto di vista, era pensata male. Era una sanatoria pensata per colfe e badanti quando la maggioranza dei cittadini che lavoravano in Italia non erano impiegati come colfe e badanti, ma in altri settori. Quindi farla come colfe e badanti era già un invito a commettere un reato. E truffa perché dà vita ad un meccanismo criminoso che si è attivato proprio per sfruttare i cittadini stranieri e ha funzionato benissimo. E truffa ancora perché nessuno degli sfruttati può andare a cuor leggero a sporgere denuncia avanti alla magistratura. Perché nel momento stesso in cui fa la denuncia, si autodenuncia come cittadino straniero irregolare sul territorio. Un fenomeno che interessa tutta Italia, anche il sud. Al sud noi vediamo che al terzo posto della nostra classifica c'è Catania. Sono ancora molte le tonnellate di sacchetti neri che giacciono per le strade di Napoli e nella provincia. La situazione migliore è in città grazie agli autocompattatori, ma è ancora ferma in provincia. Esiste un serio out-out da parte della Lega che ha votato contro nel Consiglio dei Ministri l'apposito decreto. Italia ancora ha rischi o sanzioni dall'Europa. Senza considerare rifiuti bruciati dai cittadini esasperati dal perdurare dell'ennesima emergenza. 27 incendi solo la scorsa notte. Sono ancora 1.380 le tonnellate di sacchetti neri che ancora giacciono per le strade di Napoli. La situazione è ancora grave in provincia. Migliora nel centro grazie soprattutto alla raccolta frenetica degli autocompattatori. Il segno che si scarica nonostante le lunghe code dei mezzi adibiti alla raccolta all'ingresso degli impianti dove viene conferita la spazzatura. Resta però il timore che da domani la situazione possa aggravarsi di nuovo a causa della saturazione dei tritovagliatori di Acerre e Caevano adibiti a siti di stoccaggio. Le autorità locali per scongiurare il peggioramento della crisi sperano che il governo sblocchi il decreto che dovrebbe consentire il trasporto dei rifiuti in altre regioni ma è notizia di poche ore fa che nell'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri l'argomento non è in discussione. Per superare l'ostruzionismo della Lega contrario al conferimento dei rifiuti fuori dai confini campani 50 parlamentari del PDL si sono recati a Roma per fare pressing sull'esecutivo. Tempo da perdere non ce n'è il rischio per l'Italia di una sanzione economica da parte dell'Unione Europea resta alto. Sul rischio epidemia ha voluto rassicurare l'ambiente il Ministro della Salute Ferruccio Fazio che ha annunciato inoltre alcuni provvedimenti per tutelare i bambini. è stato deciso quanto segue tutta la sorveglianza pediatrica è stata messa diciamo in capo alla regione dell'Osservatorio Epidemiologico col controllo dell'Istituto Superiore di Sanità del Ministero non solo ma viene riattivato anche il controllo sulle malattie infettive che era già stato attivato ve lo voglio ricordare nelle precedenti emergenze. A Raffaele Petrone pluri pregiudicato di 67 anni sono stati sequestrati beni per oltre 30 milioni di euro 29 automobili tra cui una Ferrari e 4.000 altri svariati beni tutto grazie all'azione della magistratura. Camorre e bella vita un cliché a cui non si era sottratto Raffaele Petrone considerato la mente dei clan egemoni dei quartieri Vomera-Renella di Alfano-Cagliazzo al pluri pregiudicato di 67 anni guardia di finanza del Gico e polizia hanno sequestrato beni per un valore di 50 milioni di euro. Una Ferrari 360 Modena e altre 28 automobili a cui vanno aggiunti 36 immobili tra appartamenti depositi e magazzini in diversi quartieri di Napoli una società immobiliare e quote di alcune società. Sotto sequestro anche 4 ville e un negozio in via della Magliana a Roma al cui indirizzo figurava la sede della ditta individuale Petrone Luca che opera nel settore del noleggio di giochi. Secondo gli investigatori che hanno operato il sequestro Petrone è considerato il capo carismatico del cartello criminale attivo nei quartieri collinari. La sua posizione nell'organigramma del clan è testimoniata anche da altre proprietà finite nel mirio delle forze dell'ordine. Sette terreni e 27 conti correnti bancari e postali. Tra i locali sequestrati anche una nota caffetteria di piazza Medaglie d'Oro al vomero. Petrone è attualmente agli arresti domiciliari a Viterbo. Il 22 aprile del 2010 il Tribunale lo aveva condannato a nove anni di reclusione per associazione a delinquere di tipo mafioso per aver avuto un ruolo dirigente nel clan di Giovanni Alfano poi capeggiato da Antonio Cagliazzo Luigi Cimmino Giovanni Totaro e Maurizio Brandi. A Napoli premiati giornalisti meritevoli per il loro lavoro che si sono distinti per aver riportato fatti con cognizione di causa senza influenze esterne soprattutto senza farsi condizionare dall'azione della camorra. Il sindaco del capoluogo campano De Magistris sottolinea come nella sua città ci siano davvero giornalisti coraggiosi capaci di svolgere al meglio il loro lavoro. Raccontare e non tacere è questo il vero mestiere del giornalista scrivere descrivere domandare e fare inchiesta alla ricerca della verità La verità al di sopra di tutto nonostante minacce pressioni e censure firme che molto spesso restano nomi scritti sulla carta dei giornali o sui sottopancia dei Tg uomini e donne alle quali molto spesso chi legge e ascolta non riesce a dare un volto ma i quali deve molto perché anche grazie a loro le forze dell'ordine riescono a vincere alcune battaglie nella guerra contro la criminalità organizzata lo conferma ai nostri microfoni il sindaco di Napoli Luigi De Magistris se i fatti si nascondono i cittadini non li possono sapere ecco perché il potere il potere malato vuole da un lato impedire come dire alla stampa di raccontare i fatti e dall'altro ai magistrati di fare le inchieste perché la stampa libera e la magistratura autonoma sono i pilastri della democrazia e dello stato di diritto perché i magistrati attraverso le inchieste autonome e dipendenti riescono a ricostruire i fatti e giornalisti liberi e indipendenti li possono raccontare quindi i cittadini possono sapere possono formarsi con scienze libere ecco perché bisogna stare vicino ai giornalisti coraggiosi Napoli ne ha avuti tanti da Giancarlo Siani a tanti altri ed è fanno un lavoro importante rischiando anche la vita ma sono quei mestieri che o li fa in un certo modo oppure non hanno ragion d'essere nell'aula pessina dell'università Federico II di Napoli sono stati consegnati premi giornalisti contro la camorra organizzati dall'associazione Modavi in collaborazione con Libera Fondazione Polis e ordine dei giornalisti della Campania un riconoscimento istituzionale ai cronisti che si sono distinti nella lotta all'illegalità e alla criminalità organizzata ai nostri microfoni il questore di Napoli Luigi Merolla senza fare gli eroi e prendendo proprio esempio dall'eroe della situazione che è nato proprio fra le vostre fila penso sicuramente a Siani Siani era uno che raccontava correttamente quello che avveniva giorno per giorno a Torre Annunziata Chiarimento tra il campo del Procura di Bari Antonio Laudati e il segretario nazionale della Federazione della Stampa Franco Sidi nei giorni scorsi i due infatti avevano dato via sui giornali un botta e risposta piuttosto vivace riguardante le intercettazioni vediamo il servizio C'era un chiarimento da completare tra il capo della Procura di Bari Antonio Laudati ed il segretario nazionale della Federazione della Stampa Franco Sidi Chiarimento necessario dopo il botta e risposta avvenuto attraverso i giornali sulle intercettazioni che avevano coinvolto anche alcuni giornalisti pugliesi ed il loro abuso nelle inchieste condotte a Bari la stretta di mano c'è stata nella sede della Sostampa Puglia davanti al Presidente Raffaele Lorusso e ad un'ampia platea di giornalisti pubblico attento nel dibattito su intercettazioni segreto istruttorio e ditto di cronaca con il Procuratore Laudati e il segretario Sidi concordi su un punto il giornalista il giornalista ha il dovere di pubblicare tutte le notizie di cui viene a conoscenza l'obbligo di custodire segreti non appartiene al giornalista il problema diverso è quello come dire del rispetto della verità e delle verifiche però credo che il discorso di questa sera sia importante perché credo che Bari possa essere un laboratorio e lanciare delle idee e delle iniziative anche per quanto riguarda questo tema che riguarda tutti i cittadini italiani c'è chi anziché rivolgersi al Parlamento per avere un decreto o al Presidente del Consiglio qualche Ministro per esempio si rivolge ad un personaggio che viene definito un lobbista può essere questo probabilmente non è un reato ma sicuramente segnala un malfunzionamento del circuito democratico e civile e se i giornali ne vengono a conoscenza hanno il dovere di pubblicarlo hanno il dovere di darne conto perché la classe politica deve essere giudicata non ci può essere una privacy per la casta e se le intercettazioni con il progetto dell'attuale Governo di mettere una nuova stretta alle stesse sono all'ordine del giorno nel dibattito politico ancora più distringenti attualità è la bozza della manovra economica che domani sarà al baglio del Consiglio dei Ministri manovra che prevederebbe tra l'altro l'abolizione dell'ordine dei giornalisti ipotesi contro la quale si schiede il segretario della Federazione della Stampa Sidi sembrerebbe un colpo di mano politico a fronte di una manovra che deve essere economica se penso a noi ai giornalisti noi non siamo attaccati alla disperazione al nostro ordinamento ma è evidente che sembrerebbe si vogliono cancellare le garantigie degli giornalisti cioè quelle che lo obbligano a raccontare i fatti di pubblico interesse secondo il criterio della verità a lui conosciuta col principio dell'indipendenza e secondo la propria deontologia professionale abbiamo così concluso questa edizione del nostro telegiornale non mi resta che ringraziarvi e darvi appuntamento alla prossima intanto vi ricordo nel weekend il tempo sarà sereno sui nostri comuni il nostro sito estnews.it grazie arrivederci grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie